2 luglio 1877, Herman S. nasce a Calve, in Germania. Scrittore, poeta e pittore, riceve il premio Nobel per la letteratura nel 1946. Il romanzo d'esordio Peter Kamenzind, del 1904, è un successo ed esse comincia a vivere del suo lavoro di scrittore. Siddhartha, pubblicato nel 1922, diventa oggetto di culto negli anni 60 e 70, e favorisce la riscoperta di altre opere come Il lupo della steppa, Narciso e Boccadoro, Il gioco delle perle di vetro. Muore a Montagnola, in Ticino, nel 1962.